... Martedì 12 febbraio, buongiorno a tutti voi ben ritrovati con l'informazione del mattino di Telemolise. La politica in apertura con l'ultima decisione del Consiglio di Stato che ha escluso in via definitiva la lista del PDL per la circoscrizione di Isernia e la lista con gli otto candidati di Noi per il Molise per la circoscrizione di Campobasso. Sentiamo il commento in apertura di Giovanni Minicozzi. Dopo l'esclusione definitiva della lista del PDL in provincia di Isernia, il centrodestra di Michele Iorio prova a rinsaldare i ranghi per sopperire alla mancanza di quattro candidati importanti dalla competizione elettorale. La parola d'ordine che circola nell'enturace del Governatore è quella di tirare dritti nonostante tutto. D'altra parte, gli stessi esclusi della lista hanno riconfermato il loro impegno a continuare la campagna elettorale impegnandosi più di prima per portare acqua al mulino di Michele Iorio. Sui fronti opposti invece, soprattutto sul versante di Paolo Frattura, la sentenza del Consiglio di Stato è stata accolta con un sospiro di sollievo anche se restano fuori dalla gara otto dei dodici candidati della lista Noi per il Molise della circoscrizione di Campobasso collegata allo stesso Frattura. Sulla vicenda è intervenuto il Presidente Michele Iorio che ha dichiarato Ovviamente avrei preferito che la lista del PDL di Sernia corresse insieme agli altri nostri candidati ma la conferma della sua esclusione non cambia di una virgola la determinazione, l'ottimismo e la forza che stiamo profondendo come singoli e come coalizione per raggiungere un obiettivo che è oggettivamente alla nostra portata. Abbiamo le idee, le esperienze e la volontà, ha aggiunto Iorio, di portare avanti quello che riteniamo l'unica proposta credibile e seria per il Molise del futuro. Insieme agli amici del PDL di Sernia, ha concluso Iorio, abbiamo condiviso la messa a punto del programma e la direzione della campagna elettorale. Continuiamo il percorso con loro, certi che essi fanno e faranno parte in pieno della nostra coalizione. Nello scenario politico attuale comunque c'è anche chi sta preparando nuovi ricorsi elettorali da presentare dopo il 25 febbraio in relazione al risultato raggiunto. Insomma, il rischio è che per la terza volta Tarre e Consiglio di Stato potrebbero annullare le elezioni. Ulisse Di Giacomo, candidato al Senato per la lista del PDL, ha incontrato a Isernia i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio e servizio di Enzo Di Gaetano. È candidato al Senato per il PDL ed è in corsa per il ritorno a Palazzo Madama, ma Ulisse Di Giacomo non dimentica la sua storia personale, le tante panchine in serie D come medico dell'indimenticabile Isernia Calcio e soprattutto il fatto che da anni riveste l'incarico di presidente provinciale del CONI di Isernia. Per questo e per ascoltare le istanze del mondo dello sport, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni sportive. Sì, io credo che sia anche interesse del mondo dello sport votare per chi rappresenta lo sport in provincia. Avere in Parlamento un gruppo folto di deputati e di senatori che rappresentano il territorio, il mondo sportivo e che sostengano le iniziative a favore dello sport credo sia un interesse che parta dalla presidenza nazionale del CONI fino all'ultima e la più piccola federazione nel territorio. Intanto però ci sono anche le grane come quella della sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso per l'esclusione della lista del PDL. Ci possono essere delle brutte sorprese dopo questa esclusione di Giacomo a livello sia di regionali che di politiche? Ma è una sentenza che io continuo a non comprendere perché si trattava di vizi formali, non sostanziali e di questo passo già la gente difficilmente va a votare. Se poi impediamo anche alla gente di avere i propri rappresentanti da votare credo che la democrazia perda molto del suo significato. Non credo che questo fatto inciderà sul risultato finale perché i nostri quattro candidati stanno continuando a muoversi sul territorio facendo votare il candidato alla presidenza Michele Iorio e i candidati alla Camera e al Senato del Popolo della Libertà. Non credo che ci siano delle grandi difficoltà dal momento che a livello nazionale Berlusconi è in una rimonta fenomenale e noi riteniamo che possa addirittura vincere io ne sono sicuro che vincerà queste elezioni e con lui vinceremo anche noi in Molise sia alla Camera che al Senato e vinceremo con lui anche con la presidenza di Michele Iorio. Le ultime notizie dicono che Berlusconi non verrà in Molise. Noi riteniamo il suo candidato a... Io stamattina ho parlato con la segreteria del presidente Berlusconi e lui ha difficoltà a muoversi anche nelle altre regioni sta rivedendo il suo calendario perché sta dedicando il tempo alla sua presenza nelle televisioni. Per noi va bene lo stesso sappiamo che il Molise nel suo cuore ci sarà vicino e credo che in una delle manifestazioni che faremo qui nell'ultima settimana avremo almeno la possibilità di ascoltarlo con una diretta telefonica e di farci sostenere dalla sua autorevolissima persona in questa campagna elettorale che si sta dimostrando giorno dopo giorno vincente. Continuiamo con la politica. Il presidente della regione Michele Iorio ha chiesto a Paolo Frattura candidato presidente del centrosinistra in nome della trasparenza richiamata nel suo programma elettorale di parlare anche dei suoi possibili conflitti di interesse. In particolare Iorio ha chiesto a Frattura di far sapere ai molisani se è vero che lui sia stato il progettista del tanto discusso masterplan di Campobasso se è vero che Frattura stesso sia proprietario abbia interessi diretti in due normi stabili in cemento armato ancora in costruzione tra la zona Vazieri e l'università di Campobasso. Infine se risponde al vero che uno dei suoi candidati inserito nella lista dell'Italia dei valori cosmo tedeschi sia il proprietario della società immobiliare che dovrà realizzare 300 appartamenti nel capoluogo di regione in una zona destinata a verde pubblico. I legittimi interessi di Frattura di tedeschi da costruttori e non da politici ha concluso Michele Iorio potrebbero mettere a rischio il bene comune. Vedete già le nostre spalle giornaledelmulise.it passiamo la nostra rassegna stampa del mattino con la lettura dei quotidiani regionali e nazionali. La notizia delle dimissioni del Papa ha avuto ripercussioni chiaramente anche sul Molise. Il Papa lascia, la politica, il mercato e la finanza purtroppo restano da Benedetto XVI una lezione da seguire. L'articolo che porta la firma di Pasquale Di Bello. In questo editoriale dice Di Bello le inattese e clamorose dimissioni di Benedetto XVI rappresentano un motivo di profonda riflessione. In un tempo dove nessuno, specie in politica è disposto a lasciare nulla la rinuncia al soglio pontificio di Josef Ratzinger può essere un esempio di lungimiranza e amore per la propria comunità. Questa è l'apertura di oggi del giornale del Molise.it vediamo le altre notizie in evidenza l'attacco di Michele Iorio a Frattura guida il partito del cemento armato ha detto Iorio poi elezioni in Molise il mondo della cooperazione incontra i candidati presidenti e chiede più attenzione al settore al lato del Palas Carabeo sarà presto realtà breve l'apertura del cantiere altre notizie dalla regione Unimol laboratorio di lettura e musica per bambini poi elezioni Iorio l'esclusione della lista PDL a Isernia non ci condiziona e intanto il governatore visita l'Alto Molise altre notizie dall'Italia e dal mondo chiaramente con tutti i commenti e le ripercussioni dopo la notizia delle dimissioni di Papa Ratzinger lasciamo il giornale del Molise.it e vediamo gli altri quotidiani veniamo a primo piano Molise ecco la notizia in apertura abbiamo già anticipato questa notizia nelle edizioni di ieri del telegiornale morto Florindo Daimmo si è spento a Termoli poche ore dopo il funerale dell'amata moglie Gilda aveva 85 anni già presidente della regione era stato parlamentare della DC e due volte sottosegretario oggi alle 14 il ricordo di Telemolise di Florindo Daimmo e poi a lato politica e lutto ricordo di Iorio un gallantuomo la sua terra veniva prima di ogni cosa Pietracupa poi aggiunge perdiamo un padre nobile parlano gli eredi gli devo quel che ho realizzato felice di essere riuscito a salutarlo Astore tratteggia il profilo ha formato intere generazioni in alto le dimissioni del Papa Benedetto XVI lascia il soglio di Pietro commozione e incredulità anche in Molise poi dal Consiglio di Stato Palazzo Spada conferma fuori gara il PDL di Sernia esclusi pure gli otto candidati di Noi per il Molise il commento di De Bernardo ora il governatore punisca il responsabile altre notizie all'interno di primo piano Molise da termoli vandali in azione nella scuola di Via Volturno poi da San Massimo Slavina blocca la provinciale Campitello isolata per due ore dal capologo il dossier della Commissione Marino ospedale Cardarelli a rischio crollo non resisterebbe ad un sisma di media intensità questa notizia a pagina 7 all'interno di primo piano Molise dall'Abruzzo i big scendono in campo per la politica poi alcune notizie di sport ciclismo giro dell'Oman Apollonio secondo nella tappa inaugurale d'eccellenza Boiano la squadra sospende gli allenamenti nuova tegola per il club lasciamo primo piano Molise andiamo sul quotidiano del Molise il Papa lascia come Celestino Quinto si interrompe bruscamente il pontificato di Benedetto XVI commozione in regione le reazioni del clero locale in particolare quelle dell'arcivescovo Bregantini riportate qui in evidenza era molto amato dalla gente e poi anche il commento del vescovo Visco gesto di grande coraggio addio a Daimmo il Molise piange signore della politica l'ex onorevole si è spento a 85 anni domani alle 11 alla chiesa di Santimote a Termoli i funerali vediamo l'altro titolo in evidenza gli scheletri nell'armadio di frattura Iorio sfida l'avversario con sette domande scottanti sul conflitto di interessi se parla di trasparenza i cittadini devono sapere la verità poi la replica di frattura attacchi pretestuosi sulla politica c'è la rubrica che porta la firma di Enzo Di Gaetano dal titolo teatrino elettorale che fa il punto della situazione in campagna elettorale poi qui a centropagina a Campobasso infiltrazioni malavitose nei cantieri ispezione della DIA regionali fuori PDL consiglio di Stato ha deciso vi segnaliamo infine anche sul quotidiano del Molise alcune notizie di sport Lega Pro Minadeo pronti alla battaglia contro l'Aprilia poi eccellenza Caos Boiano la squadra assicura solo il match domenicale lasciamo il quotidiano del Molise andiamo sui fatti del nuovo Molise l'abbandono per il bene della Chiesa le dimissioni di Papa Ratzinger e a lato il commento del direttore dei fatti del nuovo Molise Pino Cavuoti Benedetto XVI come il molisano Celestino V altre notizie all'interno dei fatti del nuovo Molise il Consiglio di Stato conferma l'esclusione del PDL a Isernia poi a lato poco dopo i funerali della moglie muore l'onorevole Daimmo e ancora conflitti di interesse Iorio sfida di Laura Frattura questo per i fatti per la prima pagina dei fatti del nuovo Molise vediamo anche il sagno quotidiano regionali il PDL resta fuori i giudici di Palazzo Spada confermano la decisione del Tar non rientreranno neanche i candidati di noi per il Molise da Venafro l'inquinamento è colpa dei comuni Parco e Consorzio di Bonifica chiedono più controlli sugli opifici e poi anche qui ampi commenti sulle dimissioni di Benedetto XVI lasciamo anche il sagno vediamo le pagine del tempo dedicate al Molise Termoliget danno erariale a sei cifre la Corte dei Conti rileva un buco di sei milioni per le casse dello Stato il collegamento con la Croazia finisce nell'elenco degli sprechi italiani più clamorosi neve freddo e allagamenti con l'ondata di maltempo nella zona di Isernia per quanto riguarda invece la politica e le regionali in particolare Palazzo Spada lascia fuori la lista del PDL di Isernia Università all'Unimol crescono gli iscritti e i giovani dati positivi e risultati soddisfacenti per il rettore dell'Ateneo Giovanni Cannata proseguiamo con la lettura delle notizie che riguardano il Molise sul tempo questa storia che racconta il tempo oggi morì negli Stati Uniti per salvare gli amici Montagano ricorda l'eroe bambino Giovanni Minadeo si gettò contro l'auto che stava per investire i compagni borse di studio per gli studenti della scuola dedicata al ragazzo trofeo dei tre mari a Termoli timonieri molisani in pole position e poi sempre da Termoli in cassa integrazione i dipendenti Carrefour il tavolo con il presidente Iorio rilancia la necessità di trovare un acquirente per l'ipermercato questo per quanto riguarda i quotidiani regionali ora andiamo sulla stampa nazionale partiamo dal Corriere della Sera chiaramente la notizia delle dimissioni di Benedetto XVI è quella più importante oggi riportata dai quotidiani nazionali ma un po' da tutti i quotidiani del mondo la decisione di Benedetto XVI non ho più le forze perdonatemi il Papa annuncia sorpresa le dimissioni dal 28 febbraio lo faccio per il bene della Chiesa il conclave è la scelta del successore prima della Pasqua Napolitano parla di grande coraggio e qui l'editoriale di Ferruccio De Bortoli una fragile grandezza questo aspetto di fragilità e di grandezza riportato poi come vedremo anche da altri quotidiani lasciamo il Corriere della Sera andiamo sul tempo che il tempo a tutta pagina riporta la notizia Benedetto Uomo fragilità e coraggio ecco come dicevamo il Papa si dimette lascio per il bene della Chiesa dal tempo andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno anche qui in evidenza le dichiarazioni di Papa Ratzinger lascio per il bene della Chiesa il Papa sento la fatica resterà fino al 28 entro Pasqua il successore l'annuncio shock di Benedetto XVI durante il concistoro l'osservatore romano deciso da mesi poi parla anche padre Lombardi che dice scelta inaspettata ma nessuna malattia vediamo come aprono gli altri quotidiani rispetto a questa notizia l'unità dice la rivoluzione di Benedetto storico annuncio di Ratzinger lascio il pontificato non ho più energie per continuare poi ancora shock nella Chiesa un conclave senza eguali la difficile partita della successione l'ex segretario di Voitila dalla croce non si scende andiamo anche a vedere Libero Libero invece che apre sempre con questa notizia ma evidenza un altro aspetto almeno dal punto di vista di questo quotidiano gli intrighi vaticani fanno dimettere il Papa una decisione clamorosa mette fine a un pontificato segnato da scandali e complotti nella curia veleni fino all'ultimo non si scende dalla croce e poi entro Pasqua il successore ecco i favoriti invece avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana sottolinea l'umiltà di Pietro l'annuncio di Benedetto XVI scuote il mondo lascia dal 28 febbraio e ancora proseguiamo con la lettura degli altri quotidiani il manifesto il manifesto stasera esco sempre sulle dimissioni del Papa dopo 600 anni un pontefice rinuncia in vita al soglio di Pietro Benedetto XVI confessa ai cardinali la sua incapacità tra virgolette di servire bene la Chiesa di Roma spossato e visibilmente provato il Papa lascia una curia divisa e scossa dagli scandali ma il suo gesto poi dice il manifesto rompe l'ultimo tabù del papato e apre la partita per la successione il mattino il Papa si dimette sfida alla Chiesa consapevole del gesto grave ma non ho più le forze conclave a marzo andiamo anche sugli altri quotidiani ecco la Repubblica il Papa lascia addio storico non ho più la forza me ne vado per il bene della Chiesa entro Pasqua il successore di missioni shock scatteranno dal 20 dalle ore 20 del 28 febbraio l'annuncio in latino davanti ai cardinali poi le lacrime la stampa l'addio del Papa ha deciso un anno fa una scelta drammatica l'unico precedente risale al 1294 il gran rifiuto di Celestino V il nuovo pontefice sarà eletto entro Pasqua anche il messaggero Papa shock benedetto XVI che lascia il pontificato a fine mese il Vaticano addio deciso da mesi conclave a marzo il peso degli ultimi scandali anche il messaggero riporta questo aspetto la notizia la troviamo anche in apertura sul sole 24 ore lascia Papa Benedetto XVI per il bene della Chiesa e poi il giornale il Papa scende dalla croce un'unica parola Amen Benedetto XVI si è dimesso è la prima volta che accade nell'era moderna e questa notizia la troviamo inoltre anche sulla Gazzetta dello Sport qui al lato il Papa se ne va e riscrive la storia l'annuncio shock con la foto che ha fatto anche il Giro del Mondo con i fulmini che colpiscono la cupola di San Pietro ma vediamo lo Sport invece in apertura al lato l'Inter sceglie Icardi l'attaccante della Samp ha detto sia Nerazzurri addirittura di arrivo anche l'accordo fra i club Milito che ha un contratto fino al 2014 potrebbe fargli da chioccia poi in alto Juve senza paura con il Celtic la prima di Conte e questo è tutto per la rassegna stampa del mattino grazie per averci seguito l'informazione torna come sempre puntuale alle ore 14 con il nostro telegiornale intanto buona giornata a tutti voi grazie a tutti